Siamo portati. Rialzarsi, rimboccarsi le maniche e reinventarsi. Le insegnanti professioniste dell'Accademia dello Spettacolo di Fano non si sono mai arrese, nemmeno in un periodo storico e duro come quello che stiamo vivendo. Infatti le scuole di danza sono state chiusa ancora una volta dal governo per limitare i contagi da Covid-19, ma dopo aver speso migliaia di euro in prodotti per sanificare e per garantire la sicurezza all'interno dei locali, sono rimaste senza aiuti o quantomeno non all'altezza delle spese sostenute e delle tante difficoltà che tutt'oggi stanno affrontando. Abbiamo cercato di ripartire a giugno e luglio con poche persone, quelle che si potevano e quelle che comunque ci hanno un po' seguito con le elezioni online che abbiamo fatto. Adesso agosto abbiamo richiuso perché tanto quello è il periodo già giugno e luglio in cui si va verso la fine dell'anno accademico, invece noi l'abbiamo ripreso. A settembre si è ripartiti in modo anomalo perché comunque c'è chi ha aspettato l'inizio della scuola, chi comunque aveva paura, che comunque avevamo preventivato. Quindi adesso siamo arrivati a ottobre che ci siamo ripresi un attimino e ci dicono di chiudere. Adesso per carità stanno richiudendo un po' tutto. Però come si va a riaprire? Cioè il 24 quando hanno detto che si riaprirà, si apre? Come si apre? Noi andiamo incontro al periodo natalizio che già comunque la gente va in vacanze e tutto quanto. Quindi si riaspetta cosa, febbraio, cercheremo di risollevarci, però ecco la situazione è critica. La struttura che abbiamo, ci spiega Milena, è molto grande e i costi da sostenere sono alti. Ad ogni modo non è mai mancata la vicinanza delle insegnanti in ogni momento vissuto il lockdown, così come in estate ed ora. Abbiamo cercato di sostenere il più possibile le bambine e le ragazze del nostro centro, ci ha detto Mascia Valentini, persino la domenica tramite Skype. Ma c'è chi ha sofferto molto per queste nuove modalità. È ovvio che sono stati giorni lunghi e quindi poverine molte ne hanno subito veramente un fatto molto personale, addirittura disgustate da queste video lezioni, tant'è che nel momento in cui siamo riusciti ad aprire qualcuna era talmente felice di ritornare, toccare il pavimento e quindi era entusiasta, però poverina aveva il panico e dice io non più queste lezioni online. Chi ne ha resentito di più, ci spiega l'insegnante di danza classica, sono state le bambine dagli 8 ai 10 anni. Quindi anche per sostenere alcune proprio si erano proprio perse, perse e non si facevano proprio sentire perché proprio hanno realizzato un veramente, una cosa, un disagio psicologico molto grosso. Nonostante le difficoltà ce la state mettendo tutta? Ho fatto anche un corso io di covid e quindi ho anche proprio un'autocertificazione proprio per esercitare, per continuare anche a esercitare tutte le lezioni che abbiamo fatto fino a che questa cosa insomma non avrà fine, speriamo il prima possibile.